segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te faccia sul giardino delle rose oggi l'ospite è un vecchio amico Bettino Craxi un alleato leale una delle maggiori figure della politica mondiale come lo stesso Reagan lo ha definito fuori nel giardino decine di giornalisti aspettano il momento per la photo opportunity così si chiama il rituale che vede Reagan e il suo ospite uscire dallo studio scendere i gradini e presentarsi alla stampa per le domande di rito allora questo rapido contributo insomma che riguarda quello che è l'armadio dei ricordi della prima repubblica vede sorridente Bettino Craxi davanti a un altrettanto sorridente Ronald Reagan una delle ultime immagini che restituiscono alla storia insomma due leader molto importanti insomma del del nostro paese degli Stati Uniti una delle ultime prima dell'affair Sigonella insomma è una di quelle di quelle pagine di quelle giri di boia della della storia possiamo chiamare così nei rapporti tra i nostri paesi ve l'ho fatto vedere perché adesso parliamo insomma appunto dei rapporti tra Italia e Stati Uniti lo facciamo con un libro che si chiama The End 1992 1994 la fine della prima repubblica negli archivi segreti americani scritti da Andrea Spiri dal professore Andrea Spiri che ci ha raggiunto buongiorno buongiorno che ricordo insegna docente di ricerca di storia politica dell'età contemporanea all'università a luis sono rimasti con noi fabio martini e francesco specchia allora perché sono così importanti questi documenti e soprattutto parliamo di un triennio che ha cambiato insomma la vita del nostro paese dagli attentati di mafia all'inchiesta tangentopoli al maxiprocesso questi documenti sono stati ottenuti grazie al FOIA il Freedom of Information Act che è la normativa che regola la declassificazione e la consultazione dei documenti ufficiali conservati negli archivi delle agenzie federali sono importanti perché sono stati declassificati anche in vista del trentesimo anniversario da quella stagione come lei giustamente sottolineava che in qualche misura cambia tutto l'Italia nel 1992 è sull'orlo del baratro nei documenti della diplomazia americana il biennio 1992-94 viene non a caso definito come il momento più drammatico che vive la Repubblica si tratta di un periodo, si tratta di un momento che assume nella rappresentazione simbolica e anche nella definizione del senso comune le forme del trauma collettivo, del dramma nazionale che vede rincorrersi gli eventi come fossero tessere di impazzite, di un mosaico in frantumi, l'irrompere di un protagonismo giudiziario che si manifesta in forme inedite rispetto al passato, il processo, l'avvio del processo di disarticolazione degli assetti di potere su cui poggia la governabilità della penisola da quasi un cinquantennio la strategia avversiva della mafia che punta dritta al cuore dello Stato per metterlo in ginocchio colpendo uomini coraggiosi, servitori coraggiosi delle istituzioni e civili inermi la crisi finanziaria del paese che incide sulla credibilità internazionale dell'Italia il tutto, ed è qui poi che il libro punta, il tutto si innesta nel quadro della grande rottura geopolitica figlia dell'89 proprio su questo vorrei far vedere intanto il documento che riguarda il 2 luglio del 93 all'interno del libro poi troverete questi documenti insomma dei servizi segreti americani che riguarda Andreotti, si è fatto un gran parlare proprio in merito a questo libro proprio sulla figura di Andreotti e che cosa, se possiamo vederlo, grazie, eccolo qui noi abbiamo evidenziato solamente il titolo che dice proprio Andreotti Speaks perché è proprio Andreotti a parlare dove? guardi, Andreotti chiede, Andreotti viene inquisito nel marzo del 93 quattro mesi dopo, chiede di essere ricevuto dall'ambasciata di Via Veneto a Roma l'ambasciata di Via Veneto fissa le regole di ingaggio quell'incontro che Andreotti chiede deve avvenire nella massima riservatezza senza prestarsi a strumentalizzazioni mediatiche e quello che va in scena secondo questo rapporto riservato è una sorta di autodifesa da parte di Andreotti Andreotti addebita i suoi guai giudiziari ad una vendetta della mafia Andreotti dice, il mio governo ha lavorato tanto contro la mafia questa è una vendetta della mafia che vuole vendicarsi e soprattutto Andreotti afferma che dietro ai suoi guai giudiziari ci sarebbe la mano di mafiosi americani e di spezzoni deviati dei servizi segreti americani e dello United States Martial Service che sarebbe la potente agenzia federale che sovraintende alle operazioni giudiziarie in America fa riferimento anche a servizi segreti italiani deviati spezzoni deviati dei servizi segreti italiani e da questi documenti c'è anche una reazione diciamo americana come rispondono a questa... gli americani semplicemente colgono la palla al balso e chiedono ad Andreotti se in questo suo scenario lui pensi ad un coinvolgimento del governo americano nelle sue faccende la risposta di Andreotti è negativa poi Andreotti invece se la prende con la gestione che definisce una gestione disastrosa dei pentiti di mafia mentre il documento del 12 marzo 1993 c'è un virgolettato revolution rivoluzione perché sono appunto gli anni insomma della fine della prima repubblica l'inizio della seconda ed è una valutazione praticamente sul fatto che in Italia non sta andando in scena diciamo un colpo di Stato ma ha un cambio diciamo generazionale possiamo chiamarlo così? un collasso della prima repubblica e la nascita di nuove figure la Casa Bianca ha necessità di capire cosa avviene l'ambasciata americana a Roma e la stazione della CIA a Roma rassicurano la Casa Bianca in Italia non sta avvenendo una vera e propria rivoluzione sta avvenendo invece un cambiamento un mutamento democratico che sta sfaldando i vecchi equilibri di potere e la cosa interessante da dire è che secondo gli americani questa rivoluzione italiana questo processo di rinnovamento sta avvenendo entro i circuiti democratici favorito e incoraggiato da quelli che gli americani definiscono i più improbabili tra i soggetti rivoluzionari ovvero i giudici quindi il processo di cambiamento avviene poggiando sulle urne elettorali non già su armi e ghigliottina quindi non siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione per le strade non si vedono le barricate dicono gli americani e i protagonisti di quella stagione sono visto che abbiamo visto il presidente americano Reagan e il primo ministro italiano Craxi in quel documento sono Bill Clinton e Carlo Azzelio Ciampi e qui c'è un altro documento che è quello del 17 settembre 1993 dove c'è proprio la trascrizione di questo incontro tra Ciampi e Clinton perché è così importante questo incontro? questo incontro è molto importante è un memorandum of conversation declassificato dalla Casa Bianca perché in quel momento e nel corso di quel colloquio il segretario di Stato Warren Christopher no, l'altro documento lo dico alla regia quello del 17 settembre in questo incontro del 17 settembre 1993 il segretario di Stato Warren Christopher solleva per la prima volta il problema dell'allargamento della Nato verso Est quindi una tematica attualissima e colpisce in particolare che secondo tutti gli interlocutori presenti nello studio Vale c'è Al Gore, c'è Clinton, c'è Ciampi c'è Anthony Lake che di lì a poco poi darà il respiro concettuale alla dottrina del democratic enlargement in questo documento si fa esplicito riferimento alla necessità che l'allargamento della Nato verso Est avvenga in una maniera tale da non minacciare la Russia sia Clinton sia Ciampi sottolinea che la Russia non si deve sentire isolata né minacciata da questo processo di allargamento questo giro, il 17 marzo 1994 poi vorrei sentire anche l'opinione di Fabio Martina e di Francesco Specchia e in questo caso, l'ha spoilerato la regia prima no clear outcome in sight with less than two weeks to election in realtà praticamente diciamo la CIA dice che non è chiarissima insomma come andranno a finire quelle elezioni che sono le elezioni che hanno rappresentato diciamo una svolta per il nostro paese però è abbastanza rassicurante sia in un senso o nell'altro se dovesse vincere diciamo la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto piuttosto che Silvio Berlusconi nella nuova alleanza nel nuovo centrodestra diciamo con la Lega di Umberto Bossi e con Alleanza Nazionale è un documento del Director of Intelligence della CIA le elezioni che tengono a battesimo la cosiddetta Seconda Repubblica quello che sottolineano gli americani è che i fondamenti della politica estera italiana sono stabili qualsiasi forza politica ormai si riconosce pienamente nelle direttrici di marcia dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea colpisce che in quel preciso istante gli americani puntino più sulla figura di Gianfranco Fini che non sulla figura di Silvio Berlusconi Fini secondo gli americani sarà il vero vincente sarà l'uomo nuovo della politica italiana la presione è andata benissimo insomma no no però è molto interessante anzitutto la premessa qui stiamo parlando di documentazione inedita e non di libere opinioni sul mercato e quindi in questa fase in cui ognuno se la canta su quei famosi documenti che vengono classificati come confidential se la canta e se la suona come gli pare al di là dei fatti avendo approfondito per altri versi tutta questa materia è estremamente interessante questa documentazione perché ci consente di capire meglio l'atteggiamento degli americani sul quale ci sono state sempre molte illazioni il retroscenismo di vario tipo in estrema sintesi negli Stati Uniti a un certo punto il presidente Bush ritiene che il problema degli stupefacenti sia estremamente grave, serio proprio per le forze armate e quindi inizia un'operazione internazionale che ovviamente ha l'Italia come epicentro Bush incontra a Roma, a Villa Taverna, l'ambasciata americana, Falcone perché gli americani, e questo non è stato mai ricordato puntavano su Falcone come uomo per il rinnovamento politico italiano poi questo non avvenne e quindi c'era la necessità di glissare, di portare all'uscita i politici italiani più compromessi con la mafia Andreotti convocato in ambasciata a riflettori spenti molto interessante e quindi si capisce come gli americani abbiano come dire, assecondato l'uscita di scena della classe dirigente della prima repubblica in qualche modo compromessa e quindi questi documenti ci aiutano a capire non tanto, come dire, un'azione attiva su questo ancora non abbiamo prove certe ma un assecondamento all'uscita di una classe dirigente Francesco Specchia, perché al di là insomma di quello che si fa quando ci sono le ricorrenze sia per quanto riguarda Angentopoli che per quanto riguarda le stragi di mafia però diciamo, più passa il tempo più passa il tempo e la cronaca lascia un po' il passo a quello che è la storia a quello che è effettivamente successo in quegli anni che hanno rappresentato comunque e tuttora magari non abbiamo esattamente il quadro chiaro, preciso di quello che è successo Sì, poi devo dire che il lavoro da speleologo tra i documenti dei servizi segreti di Spiri è noto, io me ne sono occupato anche forse in un saggio se non sbaglio su un collettaneo legato proprio alla figura di Craxi e a come vedevano i servizi quel periodo e tra l'altro li tiro fuori delle cose interessanti perché sono presenti mi pare anche in questo libro sul fatto che la CIA e i servizi segreti americani in genere avessero dei dubbi addirittura sulla condotta morale dei giudici magistrati ubriachi di potere ricordo la frase quindi si erano un po' portati avanti con lavoro in un'analisi che poi avrebbe determinato lo sfacero della giustizia italiana dopo qualche decennio e con la conseguente sfiducia da parte dei cittadini e la necessità di riforma nel saggio di Spiri interessante anche in questo qui in quest'altro anche l'idea che Berlusconi non fosse così ben visto perché era visto come un oggetto misterioso sull'atlantismo di Berlusconi c'erano dei fortissimi dubbi e mi pare che sia citata l'idea e l'ipotesi politica di un governo che avrebbe dovuto essere più istituzionale più amato Segni lì il problema fu che Segni abbandonò questa sua aspirazione a porsi a capo di una rivoluzione e Berlusconi c'è detto il passo di un Berlusconi che fu fiero e vendicativo riuscì poi a spalmare di Napoli tutto il resto della politica però gli americani non l'avevano previsto questo e anzi se non sbaglio in alcune pagine di Spiri c'è l'idea di questa alleanza tra Occhetto e Bossi benedetta addirittura da Ruini cioè di Berlusconi si parlava pochissimo poi alla fine infatti hanno smentito come al solito tutte le previsioni rose e fosche allo stesso tempo ho dimenticato di chiedere a Spiri devo dire che è un ottimo lavoro di documentazione lo consiglio molto questo libro ecco no per capire l'attività di speleologo di che mole di documenti stiamo parlando? stiamo parlando di 20.000 carte declassificate e ovviamente ha dovuto fare diciamo fior da fiore da questo punto di vista ed è rimasto fuori immagino tanta roba consideri che gran parte della documentazione ancora non è stata declassificata su molti documenti vige ancora il segreto di Stato su altri ancora ci sono degli omissi quindi la speranza è che col tempo e con la disponibilità di nuove carte si possano rafforzare o smentire le ipotesi interpretative contenute nel libro senta un'ultima domanda che le vorrei chiedere e poi andiamo a chiudere qual è stato il suo approccio prima di guardare le carte e poi alla fine di questa ricerca? cioè lei ovviamente entra con alcune idee per quanto riguarda la politica italiana e ne esce? esco rafforzato nella convinzione che la cifra distintiva dell'atteggiamento americano in quel bienio 92-94 sia come diceva il dottor Martini la totale indifferenza il totale disinteresse verso quella classe politica che stava uscendo di scena c'è un altro documento che riguarda magari proprio di attualità per quanto riguarda i giorni di guerra che stiamo vivendo in questa fase che riguarda proprio l'allargamento ad est dell'Ucraina della Nato un allargamento ad est è quel documento che fa riferimento a quel colloquio nello studio vale alla Casa Bianca che deve un processo di allargamento c'era Anthony Lake che era il consigliere per la sicurezza nazionale fautore del Democratic Enlargement quel processo di allargamento della Nato dell'alleanza atlantica deve avvenire secondo gli americani in un modo tale da non minacciare la Russia la Russia Mosca al potere c'è Jelsen in quel momento devono sentirsi coinvolti in questo processo di allargamento però era un'altra Russia era un'altra estremamente interessante ringrazio Andrea Spiri per essere stato con noi ringrazio Francesco Specchi e Fabio Martini che sono stati con me insomma dall'inizio di questa puntata l'appuntamento è domani alle 8 ci rivediamo vi ricordo le edizioni del telegiornale alle 13.30 alle 20 e alle 17 lo speciale condotto dal direttore Enrico Mentana grazie e buon sabato